Avrebbe colpito ripetutamente il suocere alla testa con un grosso bastone di legno, procurandogli diverse ferite lacero contuse. Gianni Raimondo, 40 anni, sciclitano, già nota alle forze dell'ordine, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio. La segnalazione di una violenta lite familiare di una persona ferita è arrivata ieri ai carabinieri, che giunti sul posto hanno trovato un 58enne che perdeva sangue della testa. L'uomo avrebbe dichiarato quindi ai militari che a ferirlo era stato il genere. immediatamente i carabinieri si sono messi alla ricerca dell'aggressore, che è stato rintracciato poco dopo a bordo della propria autovettura, mentre percorreva una via vicino all'abitazione del suocero. Raimondo effettivamente aveva vestiti sporchi di sangue, sottoposta a perquisizione, nascosto sotto il sedile della sua auto, è stato trovato un grosso bastone di legno con delle macchie ematiche, che è stato poi sequestrato. Nel frattempo la vittima è stata fatta trasportare con un'ambulanza presso l'ospedale maggiore di Modica, dove è rimasta ricoverata con una prognosi di 25 giorni per trauma cranico con motivo a seguito di aggressione. L'aggressore è stato ora sottoposto agli arresti domiciliari.